A Nangrigento, in prefettura, assemblea dei rappresentanti delle comunità che offrono alloggio ai minori stranieri non accompagnati. Il perché dell'iniziativa al nostro microfono. Rita Balistrieri, Palma di Mondichiaro, Comunità Cuore. Io stamattina sono qua in prefettura per denunciare le gravità che sono state fatte e che continuano ad esserci nei confronti dei minori stranieri non accompagnati. Noi non riceviamo soldi, abbiamo solo ricevuto alcuni accordi nel 2015 tutto fuori, tra l'altro con delle grave accuse nei confronti della comunità, dicendo che noi, da parte del Comune di Palma di Mondichiaro, dicendo che noi ci prendiamo, oltre a prenderci la retta regionale e nazionale, pure i soldi dei cittadini di Palma. Quindi a questo punto ieri i ragazzi hanno avuto dei problemi in comunità perché alcuni ragazzi, tra virgolette, sono arrivati in comunità buttando delle uova e dell'acqua addosso a questi ragazzini della comunità, dicendo che noi dovete andare perché voi vi prendete tutti i soldi delle comunità, i soldi nostri per andare avanti. Quindi io stamattina sono qua come responsabile, ho accompagnato i ragazzi in prefettura perché non me lo sento di lasciarli più in comunità a tutela dei minori. Non vorrei che succedessero altre cose più gravi, visto le elezioni gravissime che il singolo di Palma di Mondichiaro ha dichiarato nei confronti della comunità. Rossella Gramaglia, comunità Don Bosco di Agrizento. Noi dopo anni di lavoro, di sacrifici, quello che ci fa arrabbiare è il fatto che persone che abbiamo votato noi ci hanno completamente lasciato da soli, non fanno altro che ripetere e utilizzare ormai come scusa il fatto che non ci siano dei soldi in cassa. E questa è una cosa che ci fa molto arrabbiare, considerato il fatto che comunque si ricevono dei contributi per pagare le comunità, comunità che non fanno altro che far fare poi alla fine bella figura allo Stato italiano, alla Regione Sicilia, ai vari comuni. È bello farsi, è bellissimo, è comodo essere in prima fila quando ci sono le giornate dell'integrazione, quando ci sono le giornate dell'accoglienza, è bellissimo utilizzare i bambini extracomunitari il giorno che si apre la Sagra del Mandorlo, è bellissimo, è comodo vivere in una città dove c'è un alto numero di stranieri e non avere problemi. E probabilmente questo deriva dal fatto che in comunità gli educatori lavorano e lavorano bene. E non diamo per scontato che tutti i ragazzi che vengono devono essere dei bravi ragazzi. Se non fosse per il nostro lavoro probabilmente non ci sarebbe questa situazione. Ragion per cui se io mi sento dire che non ci sono i soldi per pagare le comunità, mi viene naturale dire che non ci sono nemmeno più i soldi per pagare le tasse allo Stato italiano, né tantomeno alla Regione, né tantomeno ai comuni. Se non mi viene assicurato lo stipendio, il mio lavoro, io non assicuro più allo Stato italiano di pagare le tasse. Noi già siamo dei minori cittadini non accompagnati e io personalmente, è da tutto il 2015 che aspetto i soldi per mantenere questi ragazzi. Finora ho portato avanti l'accoglienza con i soldi di Tascamia. Ma sono arrivato, non ero neanche più i soldi per pagare le bollette. Quindi oggi si ripristina questo Stato, altrimenti entro sera io porto i miei minori qua e se li possono portare anche a casa, alla prefettura, alla questura, a chiunque vuole. Perché non ci possono chiedere di continuarci e indebitarci per come abbiamo fatto finora.